Run Run Sì, non so per la Marilla, provo da un'altra parte Che bella, non mi ha giusto un'idea Faccio un'occasione a Marilla Allora ragazzi, faccio le treze pazze di Sofì e di me contro te Allora ragazzi, le faccio da sola Posso fare quello che io sono grande Posso fare se andrà sola a casa Posso fare tutto quello che voglio Posso chiamare anche le mie amiche e giocare Allora ragazzi, qua abbiamo due elastici Delle mallette Ferro e anche i pettine Iniziamo a pettine a schicotelli Facciamo anche questo qua dietro Ecco adesso, con il pettinato Facciamo il ferro Facciamo questo Facciamo fare la tre Già Facciamo due di questi E' difficile ragazzi Non riesco a farlo Perchè è molto difficile Senza specchio Mi sembra un Valentino Bello Sono uscito a farlo Guardate Perfetto Sono molto difficile Adesso facciamo l'altro Ragazzi Sono uscito a farlo Per me sono grande Adesso posso chiamare anche le mie amiche Perchè non c'erano i genitori E anche Marisa E adesso Facciamolo così Ecco qua Che bello Dove donora Sbri A vero Andiamo nella porta Facciamo oggi queste Sbri A vero Tu sei Ma dov'è Orella? Sai qua? No Sarò da un'altra parte Orella Sei che? O è Pippi? Sì Sì Sono Sono Senti che Stavo facendo La verticale E adesso Mi sono Senti così Così Cosa? Da ora in poi Ti chiamerò Pippi Scherzetto Si posso anche non avere Scherzetto Uno scherzo Comunque sono bellissime C'è anche il verbo E perché me l'hai fatto? Eh perché tu mi avevi fatto Quegli altri giorni E io no E allora te l'ho fatto Però sono belle Le faccio anche io Ok Stavate un giorno E le faccio Ok ok Però devi dirvi Tutto Come hai fatto Quattro le cose Mi mette L'opera Ma ti prendo anche Fello Questo video Finisce qua Da me Orella E le sue intrezze Magiche E ci vediamo Al prossimo video Ma prima Mettete il like Attivate la campanellina E iscrivetevi Se voi avete ancora Fatso Ciao